La giustizia è allo sfascio. Questo è grido d'allarme che arriva direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori del Ministero della Giustizia, che in mattinata hanno manifestato a Lecce come nel resto d'Italia. Molteplici le problematiche su cui si desidera accendere i riflettori, dallo sblocco delle carriere al pagamento di salari del 2019, fino alla carenza di personale e la mancata stabilizzazione. Abbiamo 200 precari tra UPP da stabilizzare, poi abbiamo operatori giudiziari e i data entry. Solo a Lecce ne abbiamo 200, per un complessivo che va su oltre 10.000 in tutta Italia, che sono niente rispetto all'arretrato e al problema che abbiamo, perché non dimentichiamo che gli stipendi di questi, ad esempio degli UPP, ma anche degli operatori, vengono dal PNRR, ovvero vengono dall'Europa, che invita l'Italia a fare i processi, perché siamo gli ultimi, siamo spesso e volentieri condannati, legge esistono, non so se siete, penso che siete al corrente, che quindi ci condanna alle spese perché non riusciamo a fare i processi in tempi utili. Per questo l'Unione Europea ci dice assumete queste 20.000 persone e cercate di togliere l'arretrato. Ma questo adesso, che sta già avvenendo, perché noi abbiamo gli UPP, che dietro abbiamo proprio uno striscione degli stessi, che appunto non vedono l'ora di essere stabilizzati, perché sono delle famiglie che ribarrebbero senza lavoro. Tutti lamentano l'assenza di un'amministrazione, così come ribadito nel corso di un'assemblea tenuta insieme a tutti i lavoratori. Noi siamo consapevoli del disagio, forse la politica non è altrettanto consapevole e dato che noi eroghiamo servizi al cittadino, teniamo assolutamente affinché questo servizio, che è il sistema di valutazione di un Paese democratico, laddove non c'è e non si esercita la giustizia, non si può definire un Paese democratico. La situazione è grave, questo Sittin desidera infatti lanciare un grido d'allarme su un sistema che rischia di collassare a causa di troppe criticità, che devono quanto prima essere risolte. Le criticità sono tantissime, non sono neanche lontanamente risolte, abbiamo solo notizia di una convocazione per il 22 novembre e la mobilitazione ha prodotto questo primo risultato. Vogliamo aspettare e capire che cosa ci sarà in quell'incontro, la mobilitazione continua, i problemi non possono essere rinviati, primi tra tutti il piano straordinario per le assunzioni, le risorse, gli strumenti, il personale, al Ministero della Giustizia manca tutto.